Soccò, gran giocata per Marchioni, non c'è posizione regolare, mette nel pallone in mezzo, rete, rete, Alessandro Del Piero. Del Neri sembra voler puntare a breve su De Ascentis, parte, rete, Nicola, le grottaglie, raddoppio della Juventus a Bergamo, Atalanta a zero, le grottaglie due. Tutta, alla lunga, Amaury, tre, signore e signori, lo show di Amaury, Atalanta a zero, Juventus a tre, undicesimo gol.